per il comune di Roma. Allora signori e signori, andiamo avanti che è meglio. Vi ricordo che giovedì è cominciato questa quinta edizione di Roma Salsa Festival perché abbiamo fatto un European Costal. We have made a European Contest of Salsa. Group and Couples. Coppie e gruppi. E allora i primi vincitori, the winner, delle coppie, del couple winners, questa sera balleranno. This night stand with you on the stage. Per cui vogliamo annunciare chi sono stati i vincitori che balleranno questa sera? Vito e Stefania. E allora direttamente domani Vito e Stefania. Vito e Stefania. Vito e Stefania. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.